che si spacca l'albero è bello ti piace amore? ti piace? 120 kg dai 120 kg ho i miei guantini belli comodi me ne hai fottuti ah di qua devo andare no aspetta 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 ho fatto una cagata no 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 va bene va bene va bene dai va bene vieni qua è veloce però stasera alle 8 sono ancora qua a fare il ponte tibetano fermo dammi l'altro ho sete ti fa male le mani ciao è la parte di livella si sicuro non c'hai mai le mani? insomma arrivi alla fine che c'è l'artrosi pensa che io c'ho i miei guanti cazzo ponte tibetano ti piace? no secondo me questo qui è meglio è meglio dell'altro sembra di camminare sulle nuvole no è più semplice questo qua dai guarda come faccio io non sono fatto quei ciu perché? perché così è più facile? perché? perché cammino in piedi e pieghi piedi camminati in diagonale eh e quindi? ma perché ti sbilà? incidopo un po' stai sempre bilanciato da una parte bravo già dove cazzo è? opla fede fai tu lo sgancio? eh? eh Federico? cammino così già fai tu lo sgancio? bravo bravo così appoggetti tutto da un lato eh? no magari vuole approvare lui sai che è presente la via cruci? che piattaforma è questa qua? è quella delle frustate è quella delle frustate eh no no cosa? eh Walter giuro che non sto stato io vede ma non girarti sto male volevo dirti guarda avanti ma è ancora accesa la telecamera? sì dai così Django dai ci stai? no che cazzo fai? farei il passo più lungo dalla gamba no che cazzo fai Hugh ah ma